ciao ciao hai sentito la mamma che dice indovina e cosa lei detto domani vediamo e io domani cosa le dico non lo so buttano sul cibo sai che è fissata con la pasta che è troppo rossa i soliti capricci ma ti rendi conto che siamo diventate le madri di nostra madre nostra figlia a 90 anni io figli non ne faccio perché ho già lei e perché non voglio condannare qualcuno a vivere quello che stiamo vivendo noi noi due perché nostro fratello latita già e non prendendosi le sue responsabilità non si prende neppure l'osanna a me l'osanna non fa più nulla dovresti provare il lesso tanto quello che danno a mamma e se poi divento come lei tanto lo diventerai come lei vecchia spiritosa che con la vita che faccio non lo so se lo divento vecchia comunque come stava mamma felice come una pasqua sì certo però non capisco starà meglio lì che a casa da sola no fanno pure la pet therapy il coro il ballo liscio a casa stava tutto il giorno seduta sulla poltrona a guardare il vuoto a cosa le manca vabbè appena un attimo chiamo la direzione della residenza e glielo chiedo o comunque chiedo aiuto e anche un po di lesso tanto eh ciao ciao direzione lasciateci uno messaggio pronto rispettabile direzione salve sono la figlia della signora bernini le rubo solo un attimo so quanto sia prezioso il tempo se lo so non ho mai un minuto per me per prendermi cura di me lei sa cosa intendo per cura vero sì immagino di sì e per l'appunto una curiosità lei sa se c'è uno sconto famiglia per la prescrizione di un farmaco tipo il lo so tanto quello che date mia madre potrebbe servirmi è che devo già stare dietro alla casa la spesa e poi c'è l'idraulico i compiti figli vaccini la raccolta differenziata e da quando mia madre è ospite presso la vostra residenza proprio quando speravamo di avere per così dire sistemata la faccenda non sappiamo più come gestirla è diventata insistente quando vieni qui quando vado via da qui cosa ci faccio io qui perché mi avete rinchiusa qui e questi rispettabile direzione sono bocconi difficili da mandare giù proprio come certo cibo a proposito perché la pasta è troppo rossa direzione lasciateci uno messaggio rispettabile direzione buongiorno o come dico sempre io buon appetito sorvolerei sul fatto che alcune persone ospiti trovino la pasta troppo rossa mentre altre troppo bianche comunque il menù di questa settimana prevede gnocchi al pesto pizzoccheri mezze lunedì magro con salsa di noci tagliolini ai carciofi orecchiette concime di rapa e risotto ai funghi porcini tutte prelibatezze io amo cucinare e rendere felici le persone magari con tanto lesso più che con il lesso tanto devo ammettere che i bolliti riescono bene sia a me che a lei rispettabile direzione ma dalle direttive che ho ricevute mi si chiede di frullare tutto gnocchi al pesto frullati pizzoccheri frullati mezze lunedì magro frullate orecchiette frullate tagliolini frullati carciofi frullati e risotto item con patate ovviamente frullate a me piange il cuore a dover frullare le mie creature a omogenizzare tutto a preparare un omogenizzato omologato ma perché poi per chi non tutte le persone ospiti hanno problemi di masticazione e io se non soddisfo ogni palato sono insoddisfatta e frustrata oltre che frullata insomma appetibile direzione vorrei ricordare che mi sono diplomata all'alberghiero e che ho studiato e lavorato nelle cucine dei migliori ristoranti menù spaziali ero stellata ma poi no non dico di essere passata dalle stelle ma se dovessi cucinarle una paglie fieno un frullato di biada potrebbe essere di suo gusto direzione lasciateci 1 messaggio ho trovato una chiamata senza risposta proveniente da questa direzione rispettabile quando sono di turno non ho tempo per rispondere alle chiamate neanche se provengono da questa direzione è una questione di rispetto per le persone e per me e per il mio lavoro e di tempo il tempo e sono certa che mi avete cercata per riprendermi sul fatto che non sono stata nei tempi di assistenza stabiliti il tempo noi os lavoriamo di fretta perché dobbiamo stare nei tempi anche in situazioni di emergenza lavorare con calma equivale a essere meno brave e con la fretta inevitabili disattenzioni dimenticanze nervosismo altri problemi discussioni il tempo gli anziani hanno fretta che si vada da loro e poi vorrebbero essere trattati con tutta calma come fossero soli fosse anche solo per fare due chiacchiere il tempo quanto tempo occorre per cambiare lavare vestire spostare alimentare appare apparecchiare dissetare allettare noi non siamo medici non curiamo le persone noi ci prendiamo cura delle persone e c'è una bella differenza e la differenza la fanno il tempo e il rispetto e il rispetto dei tempi rispettabile direzione vuole direzione lasciateci 1 messaggio rispettabile direzione salve non so se mi riconosce con questa mascherina sono la fisioterapista vorrà dire che le mostrerò il mio pensiero invece del mio viso sì lo so che potrei toglierla ma è che ho paura del contagio e così la indosso sempre soprattutto quando lavoro è questione di rispetto e di tatto in tutti i sensi con tutti i sensi non è facile signora bernini non mi sente almeno mi parli io come a tutte le altre persone anche alla signora bernini do del lei e non del tu non è mica mia madre tatto e contatto e le sto vicina anche se mi vengo a distanza può sembrare strano avere paura del contagio e avere voglia di contatto ma è che anche io ho bisogno di essere curata noi persone dovremmo prenderci cura le une delle altre non delle categorie degli anziani dei disabili dei carcerati ma delle persone possiamo avere cura ed essere curati ma ma dobbiamo incontrarci ascoltarci e toccarci nel profondo io non posso toccare la testa alla signora bernini ci tiene alla sua messa in piega è importante la messa in piega e lei rispettabile direzione la sua testa e il suo cuore come sono messi guarda come gerontolo guarda come gerontolo dentro all'rsa guarda come gerontolo guarda come gerontolo dentro all'rsa chi ha orecchiette per intendere intenda grazie 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 grazie